Si inasprisce la lotta all'immigrazione clandestina operata dal ministro dell'interno Roberto Maroni, che prosegue domani con un viaggio a Lampedusa, l'approdo principale delle migliaia di clandestini che arrivano tutti i giorni dall'Africa. La missione del ministro per fermare i barconi ha ottenuto un buon risultato con l'accordo firmato con la Libia, stilato l'anno scorso e che entrerà in vigore questo mese. L'opera di Maroni però non si ferma qui. Il ministro, infatti, preoccupato per i continui sbarchi, incontrerà i ministri degli esteri dei paesi del Maghreb, dato all'urgenza della revisione degli accordi ormai completamente inadeguati a fronteggiare l'emergenza in cui si trova l'Italia. Modello del trattato saranno gli accordi in corso con l'Egitto, l'unico paese con il quale i rimpatri funzionano egregiamente. Gli ultimi 2.000 emigrati arrivati provengono infatti da 20 diverse nazioni, solo 10 di queste hanno un accordo con l'Italia per il rimpatrio, immaginabili dunque le traversie con le quali il ministro sta conducendo la lotta all'illegalità. L'otta caproderà in aula sempre questo mese con un disegno di legge sulla sicurezza, che prevede tra le altre cose il prolungamento da 2 a 18 mesi della detenzione negli ex CPT, ora CIE, cioè centri di identificazione ed espulsione. Un vero e proprio passo avanti verso la legalità che il ministro Maroni vuole sottolineare con la visita di domani a Lampedusa, una visita che segna la vicinanza del governo ed in particolare della Lega Nord verso un'isola flagellata dagli sbarchi e che da anni ormai chiede di poter vivere tranquillamente della bellezza che il territorio offre e che attirerebbe migliaia di turisti, allontanati però dal clima di instabilità e insicurezza che si è creato negli ultimi anni, vissuti dai cittadini all'insegna degli sbarchi selvaggi. Un incontro quello di domani tra il ministro, il sindaco, la giunta e il consiglio comunale, che vuole segnare il passo verso la svolta ad una nuova epoca, quella della legalità e del rispetto delle leggi non solo da parte dei cittadini italiani, una sfida che vuole tra le altre cose allontanare, come dice lo stesso Maroni, lo spettro delle banlie parigine, preoccupanti infatti i nuovi fenomeni in cui si intrecciano mutazioni sociali, aspetti religiosi, nuove alleanze tra frange della sinistra antagonista e gruppi radicali di immigrati di seconda generazione.